Scelgo Arezzo e con Arezzo, queste le due liste che sostengono la candidatura a sindaco per il comune di Arezzo di Marco Donati, ex parlamentare PD, ex militante di Italia Viva, ora fuori dalla politica di partito, così come tutti coloro che fanno parte della sua squadra. La maggior parte giovani, ma anche nomi di esperienza, come quello di Gianni Cantaloni, aretino, impegnato a porta del foro, ex consigliere comunale di Forza Italia e assessore della giunta del sindaco di centrodestra Luigi Luccherini. Innovazione, sostenibilità e territorio, i binari su cui dovrà camminare l'Arezzo del futuro, secondo Marco Donati. Noi cercheremo di mettere in campo con le competenze, le persone che ho al mio fianco, una lista che guardia lo sviluppo di questa città, le cui competenze mirate sono di persone che possono dare molto a questa città. Ne ho un esempio questa mattina, due delle persone che mi sosterranno su due delle liste che rappresentano gruppi di cittadini che faranno parte di questa esperienza, una lista si chiamerà Conarezzo, Innovazione, Sostenibilità e Territorio e l'altra Scelguarezzo. Sono con me appunto due plastici esempi di questa bella esperienza, Alessandro e Silvia e poi tanti altri che annunceremo proprio in questi giorni e che faranno parte di questo progetto, perché di fatto è un vero e proprio progetto per la città. A presentarsi oggi alla cittadinanza anche i due rappresentanti delle liste. Scelgo Arezzo e Conarezzo rispettivamente, l'architetto urbanista Silvia Casi e l'innovation manager Alessandro Meucci. Torno perché ho voglia di mettere al servizio anche della città dove sono nata e che adoro tutta l'esperienza che ho fatto in 25 anni a livello internazionale e sente molto dire che Marco ha scelto persone che non hanno mai fatto politica. Allora, effettivamente io non ho mai fatto parte di una politica attiva con un partito, ma penso che un urbanista faccia politica nel senso di occuparsi della città, della polis e della gente. Noi vogliamo diventare una città delle competenze, fare in modo che chi ha qualcosa da dire, chi ha delle progettualità, chi ha nuove idee, trovi in Arezzo un terreno fertile. Marco ha voluto puntare tantissimo su questi aspetti per rompere un po' i vecchi schemi che hanno stancato e per poterlo fare ci candidiamo come cittadini perché riteniamo che al di fuori dei partiti sia possibile un reale cambiamento.